buongiorno a tutti siamo qui all'inaugurazione di messer tulipano con la contessa consolata pralormo che ci illustra le novità di quest'anno buongiorno contessa buongiorno dunque quest'anno tante novità perché il sottotitolo dice messer tulipano il parco si tinge di rosa per la diciannovesima edizione ed è una doppia parola praticamente messer tulipano ospita madame gella rosa e quindi tutto il parco a questo filo conduttore sia sul fiore che sul colore e ci sono scenografie straordinarie serpenti di fiori oltre alla rosa tutte le varietà di violette in sfumatura in narcisa c'è il bosco di narcisi fiorito il tulipano leggermente indietro perché fa un po freddo ci sono i precoci però si passa una bella giornata da noi molto completa si possono fare tante cose divertirsi per tutta la famiglia quali sono gli orari in cui si può visitare la mostra la mostra visitabile fino al primo di maggio con orario 10 18 di settimana 10 19 nelle domeniche festivi allora ci vediamo bene a messer tulipano grazie benvenuti